Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Siccome l'emergenza pare che continui per molto tempo, non possiamo rimanere a fare lezione solamente sul ripasso, quindi dobbiamo iniziare ad andare avanti con il programma. Oggi la lezione sarà sulla storia, quindi una lezione che varrà sia per la seconda A sia per la seconda B, in considerazione che siamo allo stesso punto. Oggi parleremo della rivoluzione americana. Vi voglio avvertire ragazzi, per tutte le lezioni di storia voi potrete seguire questo video che rappresenta la lezione che io farei normalmente in classe, insieme al PowerPoint che poi vi posterò a parte. Quindi potete vedere questo video mentre scorrete il PowerPoint che poi vi fornirò. Stavamo dicendo della rivoluzione americana, un'importantissima rivoluzione per tutto ciò che poi ha comportato. Se vi ricordate in classe vi dicevo che la rivoluzione americana è uno dei portati della guerra dei sette anni, piccola guerra, che ha avuto però un grandissimo problema successivo. Vi abbiamo detto che la guerra portò gli stati a indebitarsi tantissimo e quindi ad avere anche la necessità di reperire dei fondi. La Francia, come vi ho detto, si indebiterà talmente tanto che arriverà il momento della rivoluzione francese. Per quanto riguarda invece le colonie inglesi in America, anche se l'Inghilterra, come sapete dalla guerra dei sette anni, è uscita vincitrice e ha acquisito numeroso e notevole territorio in America del Nord, bene, la Gran Bretagna si trova costretta anch'essa a fare fronte alle aumentate necessità economiche. E per far questo cosa fa? Ovviamente tassa le colonie, in particolar modo quelle americane. Da qui nasce la rivoluzione americana. Ma prima di tutto dobbiamo fare un passo indietro. Vi ricordate quando parlavamo un mesetto fa circa della colonizzazione della costa americana da parte degli inglesi, i padri pellegrini che nel 1620 arrivarono sul Mayflower, alle coste di quella che poi sarebbe diventata New York. Bene, dal Seicento fino alla seconda metà del Settecento erano passati in America addirittura due milioni e mezzo di coloni inglesi. Quindi era diventata una colonia molto molto importante. In realtà non era una sola. Le colonie erano 13. Erano 13 colonie che erano nate un po' disordinatamente lungo la costa dell'oceano atlantico e venivano affidate dalla madrepatria inglese a delle società private, in questo caso la società delle Indie orientali. Siamo arrivati al punto in cui le colonie, come vi ricorderete, avevano uno stretto legame con l'Inghilterra. Tant'è vero che Cromwell, con il famoso atto di navigazione, impose che nei porti delle colonie ci potessero andare solamente le navi inglesi, che le colonie potessero commerciare solo con l'Inghilterra e che nessun'altra nave avrebbe dovuto attraccare sulle coste dell'America. Ecco questo è il cosiddetto protezionismo di cui abbiamo parlato diffusamente il mese scorso. Bene, dopo tutto questo periodo ovviamente le condizioni delle colonie inglesi in America erano sempre più gravi perché l'Inghilterra aveva ancora di più in asprito le condizioni commerciali in America. Gli americani fondamentalmente si governavano quasi da soli, avevano un governatore nominato dal re, ma il governatore veniva affiancato da delle personalità del posto, cioè americane, che sostanzialmente lo aiutavano e che governavano con lui. Il problema era per l'appunto il commercio perché le colonie americane non potevano far altro che commerciare con l'Inghilterra e comprare dall'Inghilterra ciò che essi richiedevano, ciò di cui avevano bisogno. Tra l'altro le 13 colonie erano anche completamente diverse le une delle altre. A nord c'erano le colonie più sviluppate dal punto di vista commerciale e industriale, anche perché c'erano le coste alte e rocciose, il territorio non era particolarmente ideale per l'agricoltura, quindi si concentrarono sul commercio e sull'industria. Al sud invece c'erano le colonie che erano particolarmente invece vocate per l'agricoltura, c'erano grosse piantagioni, gli schiavi servivano tantissimo per poter rendere queste colonie produttive. Quindi già questa differenziazione tra le colonie del nord e quelle del sud, poi c'erano anche le colonie centrali di mezzo in cui c'erano ovviamente le caratteristiche simili dell'una e dell'altra, ma dove si sviluppò soprattutto una serie di università di grande prestigio, bene questa differenza già rendeva i coloni divisi gli uni dagli altri. Per questo a un certo punto l'Inghilterra iniziò a inasprire dopo la guerra dei sette anni la sua tassazione. Oltre alle imposizioni commerciali gli inglesi costrinsero gli americani a una nuova tassa sullo zucchero e soprattutto allo stamp act, cioè una tassa su tutto ciò che era stampato, quindi i giornali, anche la posta, insomma su tutto ciò che comportava la comunicazione c'era una tassa che era particolarmente odiosa per quanto riguarda gli americani. Il Parlamento di Londra non conosceva nulla della realtà americana e per questo nei coloni americani iniziò a svilupparsi una coscienza e anche un'idea politica secondo cui l'Inghilterra non poteva pretendere dalle coloni americane delle tasse senza concedere ai coloni americani una rappresentanza politica. Era il principio no taxation without representation, cioè nessuna tassa senza una rappresentanza in Parlamento. Questo però gli inglesi e in particolar modo il re Giorgio III non voleva o non poteva concedere agli americani. Perciò i contrasti tra i coloni e la madrepatria cominciarono ad aumentare. Addirittura si arrivò ad un massacro a Boston nel 1773 in cui per una protesta degli americani gli soldati inglesi spararono ad alzo zero sulle persone, sulla folla che protestava e questo costituì un massacro. A questo punto il re Giorgio III impedì agli americani di avere anche i loro rappresentanti affiancati al governatore. Spedì un corpo militare per sedare le rivolte e fu il momento in cui gli americani presero coscienza che era necessario lottare. Nello stesso 1773 vi fu una forma di protesta molto particolare chiamata Boston Tea Party. Degli americani, contrari alla politica inglese, arrivarono travestiti da indiani tra l'altro nel porto di Boston e gettarono a mare l'intero carico di tè che era appena giunto dall'Inghilterra. Tra l'altro gli inglesi avevano dato il monopolio del commercio del tè in Inghilterra, negli Stati Uniti, alla compagnia delle Indie orientali. Questo fu la goccia che fece traboccare il vaso. Giorgio III rifiutò di sentire le proteste degli americani, i quali nel 1774 si riunirono in un congresso, cioè una riunione di tutti i più importanti esponenti delle 13 colonie, a Filadelfia, il cosiddetto primo congresso di Filadelfia. Qui gli americani misero in chiaro, in un documento, che loro non volevano contestare all'autorità del re, anzi loro erano molto contenti di poter ancora essere leali sudditi di re Giorgio III, però volevano un'autonomia maggiore e soprattutto volevano una rappresentanza nel Parlamento di Londra. A queste richieste Giorgio III rispose con un netto rifiuto. A questo punto le 13 colonie capirono che era venuto il momento di fare la guerra. Nel 1774 il secondo congresso di Filadelfia diede a George Washington, un proprietario terriero della Virginia che si improvvisò capo militare, diede il comando di un piccolo esercito formato da americani e si aprirono le ostilità. Iniziò la guerra americana che noi conosciamo come rivoluzione americana. Nel frattempo i delegati delle 13 colonie il 4 luglio del 1776 scrissero la dichiarazione di indipendenza, cioè si dichiarano indipendenti dall'Inghilterra e anche oggi il 4 luglio in America è giorno di festa nazionale perché si ricorda il giorno in cui nascono gli Stati Uniti d'America. Naturalmente prima della vera nascita degli Stati Uniti d'America ci fu la guerra, una guerra molto lunga che dal 1774 terminò solamente nel 1781 e che i coloni americani riuscirono a vincere solo perché la Francia e l'Inghilterra si schierarono con loro, ovviamente per cercare di diminuire la potenza inglese. Comunque dopo numerose battaglie quella decisiva fu combattuta a Yorktown nel 1781 e qui i coloni americani insieme agli spagnoli e ai francesi riuscì a sconfiggere definitivamente la potenza inglese che chiese a quel punto l'armistizio. Due anni dopo nel 1783 si tenne il congresso di pace a Versailles nella reggia di Versailles dove c'era allora Luigi XVI che regnava e fu il garante di questo accordo e nascono ufficialmente gli Stati Uniti d'America. L'Inghilterra trasferisce ovviamente le sue le sue terre conquistate agli americani, deve cedere la Louisiana e la Florida di nuovo alla Spagna e deve restituire alla Francia alcune isole dei Caraibi che erano stati sottratte nella guerra dei sette anni. Così inizia la vita degli Stati Uniti d'America che poi seguiremo con calma nella sua evoluzione.